E' uno che si è fatto la tessera del PD per due o tre mesi a quanto ho capito e poi ha capito di che pasta era fatto il PD e ha deciso di cominciare ad allontanarsi da quella gente lì. Io non considero chi si è invaghito per un momento degli altri partiti un appestato, anzi chi ha il coraggio oggi di schierarsi contro quell'apparato di potere fiorentino dei Renziani e di metterci la faccia ha il mio supporto e tenete presente quella persona, il vicepresidente dell'associazione Toscani nel mondo, è uno che si è battuto sempre per portare il Made in Italy in giro per il mondo, la nostra cultura. Questa polemica per me è una polemica che ci aiuta a far capire come il Movimento 5 Stelle voglia dare un'opportunità anche a chi si è ricreduto dei vecchi partiti, altrimenti che ci stiamo a fare? Noi vogliamo andare al governo e vogliamo coinvolgere anche quelli che sono stati delusi dalle vecchie forze politiche. Grazie.